Ciao a tutti ragazzi, oggi faremo un video di un accetto horror. E se arriviamo a 400 like, ne farò un altro di questo. Iniziamo. Lo fai spesso? Relay. Incontro di Robin, Melvin. Non proprio. Si può dire? Solo un po'. Tu? Anch'io. Non è più così popolare con tutte le storie folli che si sentono. Lo so. Devo dire che quasi non ha accettato il tuo invito. Sì, c'è sempre quella sensazione di nervosismo, vero? Sorseggia la sua birra, senza distogliere lo sguardo da Relay. Devo essere onesto su una cosa. Cosa c'è? I bar. Non sono proprio il posto giusto per me. Posso dire... Vuoi andare da qualche altra parte? Che cosa hai in mente? Beh, ho un amico che stasera fa una festa a casa sua. Se voi possiamo andare lì. Sembra divertente. Hai guidato fino a qui. Ho preso un taxi, non mi piace guidare. Ho portato la mia auto, se vuoi possiamo andarci insieme. Oh, posso darti l'indirizzo e ci vediamo lì. Qualunque cosa sia più comoda. Saremo alla festa insieme, giusto? Certo. Allora dovremmo arrivare insieme. Andiamo. Dopo pochi minuti di guida, Melvin ferma la macchina. Perché la ferma? Perché la ferma? Oh mio Dio. Perché ti fermi qui? Mi dispiace. Volevo controllare prima una cosa, se non ti dispiace. In un posto come questo. Sembra nervosa. Sì, questo era dei miei genitori. Io e mia sorella abbiamo cercato di venderlo per anni, ma nessuno lo vuole. Forse perché sembra molto inquietante? Forse ha ragione, Rilley. Lo so, è una sofferenza. Ecco perché ho bisogno di assicurarmi che non ci siano barboni o altro dall'interno. Aspetta in macchina, tornerò presto. Se ne va, senza dire un'altra parola. Rilley si guarda intorno. In un bosco, Dio mio. Proprio lì si dovevano fermare. Comincia a sembrare una di quelle storie dell'orrore di incontri online. Ok, solo cinque minuti, non di più. E sto chiamando una macchina per portarmi a casa. Non mi piace affatto. Questo è troppo tranquillo. Si fa un'idea sulla fronte e compaiono delle perle di sudore. Cerca di aprire la porta, temendo che sia chiusa a chiave. Si apre senza indoppi. Ti sta agitando troppo per niente. Ma non mi sento a mio agio. Sono sicuro che capirà se me ne vado. E cosa c'è? Non c'è segnale. Bene. Andiamo bene. Non posso crederci. Scende dalla macchina e se ne va in giro, cercando di trovare un segnale. Mentre cammina e si gira, vede una figura incappucciata dietro l'auto. Chi c'è lì? Prima che possa dire qualcos'altro, la figura si avvicina di più a lei. Preme uno straccio che puzza di alcol incontro la sua bocca. Rilley inizia a sentire sonnolenza. Cerca di premere il pulsante sullo schermo del suo telefono, ma sviene. Svegliati! Le dà uno schiaffo in faccia. Rilley le apri gli occhi. La fa vedere? No. Che posto è questo? Non parlare, per favore. Mi sto divertendo un po' con te. Non rovinare tutto. Rilley scuota i polsi e scopre di essere incatenato in un tubo dell'acqua. Perché mi hai portato qui? Voglio mostrarti una cosa. Qualcosa che non tutti possono vedere. Non voglio vederlo. Si può sempre organizzare. Regge un pugnale. Rilley a retta e si agita per cercare di liberarsi. Siamo entrati in contatto subito al nostro appuntamento. Non credi? Ti conosco a malapena. Lo so. Ecco perché non stiamo facendo. Così puoi conoscere il vero me. Cammina verso un tavolo ammuffito. E cosa che vede? Oddio che schifo. Non sono bellissimi? Rilley chiude gli occhi terrorizzata. Apri gli occhi. No, per favore. Apri o ti taglio le palpebre per farti vedere. Gli occhi di Rilley si aprono a molla. Melvin si siede sul pavimento di fronte a lei. Che cosa sta succedendo? Sei pazzo! È liberatorio? Stasera ti mostrerò la mia anima. Si aggira con le unghie che gli attraversano ancora la carne. I suoi piedi lasciano impronte e insanguinate. Ovunque vada. Fermati! Non ti piace? Non lo sto facendo bene? Lo so. Tira fuori di nuovo il suo pugnale e lo passa sulla faccia di Rilley. Rilley chiude gli occhi e le lacrime le corrono lungo il viso. Apri gli occhi. Lo farò bene questa volta. Perché lo sto facendo? Perché ho bisogno che tu veda il vero me. L'unico modo per mostrare che siamo veramente è attraverso il dolore. Non voglio che tu ti faccia del male. Non voglio che tu ti faccia del male. Non ti farò del male. A quanto pare si sente offeso. Tu non capisci. Prende la lama e si taglia la guancia facendo uscire il flusso del sangue. Sospira con soddisfazione. Vedi? È rilassante. Lui si avvicina a lei. Ora è il tuo turno. Rilley sente le catene che si allentano intorno ai bolsi. Si alza. Per favore. Voglio solo andare a casa. La porta è proprio lì. Indica l'altro lato della stanza. Ma non vuoi andartene da qui nell'oscurità. Devi vedere la verità. Sei pazzo. Lo pensi ora perché non sei stata illuminata. La passa... Le passa il maledetto pugnale. Assapora questo momento meraviglioso. Stai per essere finalmente libera. La porta è aperta. Non riesco mai a chiuderla quando qualcuno sta per assaporare l'illuminazione per la prima volta. Fa sempre venire voglia di fare una passeggiata al chiaro di luna. Possiamo farla insieme. Rilley fa un passo verso Melvin, muovendosi lentamente. Mi piacerebbe. Comincia a fingere di capirlo. Come posso raggiungere la luce? Il dolore è la porta. Rilley avvolge il pugno stretto contro il manico del pugnale. Allora lascia che ti porti più luce. Lei salta verso Melvin, buttandola a terra. Lui cerca di respingerla, ma la sua forza riesce a malapena a tenere il pugnale lontano dal suo corpo. Rilley spinge a terra con tutta la sua forza, cercando di infilare il pugnale nel petto. Non voglio farlo, ma se vuoi allontanarmi da te... La porta si stacca dai cardini, con un tonfo. I poliziotti puntano le armi verso una porta. Devi morire! Porta il pugnale verso il collo di Melvin. Poliziotto 1, fermati! Poliziotto 2, gettala! Rilley guarda in alto, ma la sua mano continua a muoversi. Un colpo di pistola avvisa Melvin. Cos'è? No, non lo fa vedere. Una Rilley senza vita si sdraia sopra di lui. Melvin rimane congelato, guardando il corpo morto. Poliziotto 1, va tutto bene, signore? Va tutto bene, signore? Perdono il corpo di Rilley. Lo aiutano a distorgersi le scarpe. Poliziotto 2, ora andrà tutto bene. Venga con noi. Melvin. Grazie. Lo portano fuori. Paramedico. Non preoccuparti. Ci occuperemo noi di tutto. Crede che mi rimetterò presto? Sei ferito gravemente, ma starei bene una volta che ti avremmo rimesso in sesto. Starei meglio di un paio di giorni. È solo che... Ho un appuntamento domani sera. Sorride il paramedico. E non vorrei perdermelo. Finito. Ciao ragazzi.